Andiamo a questo punto a vedere la terza. Anche in questo caso Riccardo abbiamo una carta verde, ci spostiamo sull'energetico, sulle materie prime, quindi andiamo sul natural gas, andiamo al rialzo. Ho visto come recentemente il livello dei 4,80 dollari è stato un buon livello per il natural gas, questo ovviamente ha spinto il prezzo ad effettuare un pullback che secondo me potrebbe essere anche interessante da vedere per le prossime settimane, perché se noi dovessimo andare a rompere questo supporto, questa resistenza dinamica di breve periodo che è iniziato praticamente da fine ottobre, è possibile anche vedere una continuazione rialzista del natural gas. In questo caso, in questo frangente, dobbiamo capire se effettivamente il prezzo del natural gas si trova in un momento di pausa del trend e quindi successivamente una continuazione, oppure una fase in cui potremmo assistere a un'inversione. Però stiamo contestualmente vivendo anche un periodo in cui c'è crisi energetica, quindi crisi di approvvigionamento, di scorte, quindi è probabile che se dovessimo continuare a vivere questa situazione, il prezzo del natural gas potrà continuare comunque a salire. Per quanto riguarda invece i livelli... All'Europa, ma vi è poi quella partita che forse trascuriamo io in primis, ma che il mercato e gli investitori che stanno guardando il natural gas non trascurano le tensioni che vi sono sul confine polacco, che hanno portato il presidente bielorusso a minacciare l'interruzione del gas che viene portato tramite il suo paese, anche qui dalla Russia, verso l'Europa. E da un punto di vista tecnico, guardando anche il grafico, Paolo, qui sembra sia veramente venuto a creare dapprima un doppio minimo e poi un ulteriore segnale di acquisto proprio nel corso di questa seduta con la violazione di questa trendline discendente. Sì, è molto importante notare anche queste rotture di trendline perché sono sicuramente dei segnali rialzisti per il sottostante in questione. Quello che, come ti dicevo prima, quello che vedo io è probabilmente una continuazione rialzista, nell'ambito, diciamo, più per un'operatività di medio e lungo termine, se il natural gas dovesse rompere i 4 dollari e 70 centesimi, livello supportivo, come ti dicevo prima, molto significativo, è stato molto significativo per il sottostante, potremmo, secondo me, vedere anche discese fino ai 3 dollari e 90 centesimi, perché comunque se dovessimo andare a fare una proiezione dai massimi di fine ottobre, secondo me potremmo trovare una buona coincidenza a 3 dollari e 80, 3 dollari e 70 centesimi. Quindi monitoriamo comunque in questi livelli. Ok, livelli dunque della strategia da assegnare, quali sono? Te li dico subito, allora, livello di ingresso 5 dollari, stop loss 4 dollari e 55 e target a 5,80.